Continui pure, signor Quagmire. Senta, lo so che oggi sono tutti qui per giudicarmi, ma prima di farlo, vi prego di considerare che ho avuto un'infanzia molto dura. Mio padre era un militare, perciò a casa non c'era quasi mai, e mia madre, beh, diciamo che era un po' promiscua. Credo che i miei problemi siano iniziati il giorno in cui sono nato. Uè! 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 È un maschietto, signora Quagmire. Ah, è bellissimo. Come si sente? Arrappata, molto arrappata. Lo rimetta dentro, così lo spingo di nuovo fuori. Sono nato ben nove volte quel giorno, e la situazione non è mai migliorata. Ho imparato la BC ripetendo i nomi di tutti gli uomini con cui andava a letto mia madre. E' stato terribile. Non sono nemmeno andato al ballo della scuola. Ci è andata mia madre per me. Ehi, Crystal è pronta? Oh, ciao, Ronnie. Ehi, riporta a casa mia madre per mezzanotte, ok? E se me la sbatto nella limusina e te la riporto fra venti minuti? Andiamo, Ronnie. Ha comprato un vestito nuovo. Capisce vostro onore? Grazie a mia madre. Non ho mai avuto una chance di essere come tutti gli altri. I miei insani istinti carnali sono il risultato di aver avuto una madre sessualmente deviata. Le chiedo solo di darmi l'opportunità che non ho mai avuto nella mia infanzia.